buongiorno amici sportivi io sono marcello vendramin in qualità di nutrizionista sportivo oggi vi parlerò di come affrontare la preparazione a un evento sportivo da un punto di vista ovviamente alimentare per lo sportivo è essenziale non rimanere mai in carenza di cibo ogni volta che voi rimanete più di 3-4 ore senza assumere del cibo il vostro corpo comincia ad autoalimentarsi della vostra massa muscolare e questo ovviamente è deletereo non cercherà di utilizzare il grasso cosa che molti sperano l'utilizzo della massa grassa avviene solo quando il corpo ha tutto ciò di cui ha bisogno e per cui è disposto a liberarsi della massa grassa che non gli serve di quella riserva che a quel punto è diventata inutile per cui fondamentale fare colazione appena ci si sveglia fondamentale fare uno spuntino metà mattina metà pomeriggio non rimanere mai come dicevo più di 3-4 ore senza mangiare ovviamente lo spuntino dovrà essere il più possibile privo di zuccheri e grassi cerchiamo di stare sulla frutta che poi sia frutta fresca o frutta disidratata o delle barrette energetiche di qualità se non avete modo di avere della frutta purata di mano soprattutto se in quel frangente vi state preparando all'allenamento perché se ho fatto colazione la mattina alle 7-7 e mezza e mi allenerò in pausa non posso stare 5 ore senza assumere cibo e andare ad allenarmi stessa cosa nel pomeriggio se ho pranzato e ho pranzato bene introducendo carboidrati e proteine e mi approccio l'allenamento in fase serale senza introdurre niente un'ora un'ora e mezza prima come energetico come ergogenico come benzina per i miei muscoli farò un allenamento sicuramente poco redditizio mi sentirò vuoto mi sentirò scarico farete tanta fatica inutile ma con una resa muscolare molto molto carente per cui alimentarsi con regolarità è la prima regola per prepararsi a un evento sportivo una gara di qualunque tipo specie in particolar modo se parliamo di gare di endurance negli ultimi giorni diventa veramente fondamentale curare molto i tempi e i modi addirittura in quei casi io consiglio di fare due spuntini fra i pasti proprio per dare al corpo il modo di mettere fiene in cascina di accumulare scorte quel glicogeno che sono quegli zuccheri che il corpo accumula nei muscoli e che poi utilizzerà nel momento del bisogno durante la competizione vi ricordo che i prodotti free life energy potete trovarli sul nostro sito e sono acquistabili digitando www.freelifeenergy.com per oggi ho chiuso alla prossima a a a a a a a a a